eccoci qui come da titolo oggi andiamo ad aggiornare la procedura di check-in online da applicazione Ryanair per il 2024 e 2025 qualcosa a livello di schermo a livello di schermate non a livello di procedura è cambiato rispetto all'ultimo video che avevo fatto per appunto questa procedura di check-in online attraverso l'applicazione ufficiale di Ryanair da smartphone e quindi andiamo un po ad aggiornarla come già detto utilizzeremo l'applicazione ufficiale di Ryanair che ti consiglio assolutamente di scaricare devi averla se vuoi volare con Ryanair a mio avviso è un consiglio assolutamente personale ormai col cartaceo veramente è un casino viaggiare quindi io ti consiglio di avere l'applicazione di Ryanair quella ufficiale perché ti semplifica la vita in maniera incredibile ti permette anche di gestire la tua prenotazione tutte le possibilità e le schermate che vedremo le puoi vedere anche da pc tranquillamente se procedi a fare il check-in online da computer vedi le stesse cose magari fra qualche mese farò anche l'aggiornamento alla procedura da pc ma quella era un pochino più fresca quindi e non è cambiato praticamente nulla quindi era inutile aggiornarlo dal 2023 ma quello che vedi oggi è praticamente ciò che puoi fare anche da computer il mio consiglio e lo ripeto è quello di fare il check-in online non più da pc ma da applicazione quello che ti faccio vedere oggi il motivo è semplice così hai già lì sull'applicazione le carte d'imbarco con il qr code quello che puoi mostrare puoi utilizzare in aeroporto per accedere ai controlli per salire sull'aereo insomma per fare tutto non devi più stampare assolutamente niente c'è un discorso importante da fare con la versione pdf che puoi scaricare se fai la procedura da computer c'è un discorso importante lo farò alla fine quindi rimani fino alla fine di questa di questo tutorial perché lì parlerò anche della versione pdf che c'è ancora ma io non ti consiglio comunque ne parleremo alla fine ora prima di andare a video e vedere la procedura del check-in online da app sorge una domanda quando da quanto tempo prima lo posso fare il check-in online beh la risposta è dipende dipende da qual è stata la tua scelta in fase di acquisto del volo stesso se tu durante la prenotazione del volo hai acquistato la scelta del posto a sedere quindi hai scelto un posto a sedere pagando tu il check-in lo potrai fare da 60 giorni prima del volo stesso se prendi un volo andata e ritorno sono 60 giorni per il volo d'andata 60 giorni per il volo di ritorno quindi non è che se è 60 giorni dal volo d'andata poi è aperto il check-in anche per quello di ritorno no sono sempre considerati voli separati comunque se consideriamo i voli singoli da 60 giorni prima del volo ripeto se hai acquistato la scelta del posto a sedere se invece non hai acquistato la scelta del posto a sedere e te lo fai assegnare gratuitamente ripeto senza spendere un euro gratuitamente a quel punto il check-in online drasticamente lo potrai fare da 24 ore prima del volo sì lo so c'è un divario immenso da una parte lo puoi fare 60 giorni prima e se invece non acquisti la scelta del posto a sedere lo puoi fare da 24 ore prima è così io non ti sto dicendo che sia giusto o sbagliato ma con Ryanair è così se tu decidi di risparmiare e non te ne frega dove verrai assegnato magari posto centrale magari in fondo magari quello che vuoi magari lontano dai tuoi amici o i tuoi familiari perché signori è fattibile nessuno non hai nessuna garanzia di venire messo vicino a qualcuno con cui hai fatto la prenotazione anzi non verrai mai messo vicino questo te lo garantisco e non chiedere per piacere di spostarsi perché la maggior parte della gente li compra i posti a sedere e quindi non si sposta giustamente e tu non ti devi incazzare che non si sposti perché magari ha pagato per avere quel posto quindi mi raccomando detto questo che è una cosa che non tutti riescono a capire soprattutto gli italiani detto questo se decidi di risparmiare per la non scelta del posto a sedere tu potrai fare check in da 24 ore prima del volo è chiaro che se tu entrerai nella tua prenotazione 5 giorni prima 10 giorni prima 20 giorni prima 30 giorni prima ci sarà scritto fai check in adesso tu ci clicchi sopra lo potrai fare il check in ma dovrai scegliere il posto a sedere e pagarlo quindi pagherai il posto a sedere poi procederai facendo il check in non è che la scritta fai il check in adesso è garanzia del fatto che tu lo possa fare sì il check in è aperto perché siamo nei 60 giorni in cui si può fare ma se tu non hai acquistato il posto a sedere prima di fare il check in lo puoi acquistare lo puoi acquistare anche dopo la prenotazione però è chiaro che ti costano di più i posti quindi se hai anche solo un'idea che dopo vorrai fare il check in con non le 24 ore prima ma decisamente prima prendi la scelta del posto a sedere in fase di prenotazione perché è il momento in cui ti costa assolutamente meno rispetto a tutto il resto ora andiamo sul mio telefono sul mio telefono per andare a vedere come procedere appunto da applicazione per fare il check in online con Ryanair ora aprendo la applicazione io ti faccio vedere come se non fossi ancora loggato cioè come se non avessi fatto ancora il login è importante farlo perché così se tu hai già fatto il login e sei loggato all'interno dell'app da telefono e ti sei registrato ma mi sembra logico la registrazione la devi fare quando fai un acquisto di un biglietto che tu lo faccia da pc o che tu lo faccia da da applicazione ufficiale e l'acquisto intendo del volo sicuramente dovrai per forza accedere al tuo my Ryanair ovvero iscriverti quando non sei logato vedi così ma se io mi logo e adesso lo faccio accedo io accedo con google come puoi vedere ecco fatto l'accesso non ti ho fatto vedere con quale mail lo faccio per una questione di privacy ma come vedi ho un volo prenotato che è un pisa bari per domenica 27 ottobre alle 10 40 quello che vedi coperto è solitamente il codice alfanumerico della prenotazione che ti copro perché se vedi questo video prima della mia partenza è chiaro che è questione di privacy e quindi potresti anche entrare nella mia prenotazione per cui te lo copro ma come vedi se fai il login e vedi qui sopra nell'angolo in alto a sinistra che c'è scritto cg cristiano guidetti quindi ho fatto il login con questo puoi anche mettere la tua foto se vuoi io non l'ho messo puoi entrare direttamente nel tuo volo cliccando appunto cristiano vedi il tuo prossimo viaggio ora io ci clicco sopra entriamo nel volo e poi facciamo il check in online a chiaramente se vedi che tengo gli occhi bassi è perché sto guardando da telefono appunto quello che faccio perché lo faccio in diretta con te il check in online quindi a questo punto come dicevamo clicco sul mio volo pisa bari e dentro nella mia prenotazione per andare a fare il check in online eccoci qui all'interno come vedi c'è l'orario domenica 27 ottobre alle 10 40 arriva alle ore 12 da bari qui sotto puoi acquistare diversi servizi posti bagagli in più noleggio auto assicurazione fast track taxi e trasferimenti a me non interessa nulla io ti faccio vedere i miei dettagli di viaggio cliccando appunto sul pulsante dettagli di viaggio sotto l'orario ti dice quello che tu hai comprato in fase di prenotazione perché poi magari ti risulta che non non ti ricordi che cosa avevi comprato vuoi aggiungere qualcosa e lo puoi fare anche dopo l'acquisto quindi cliccando su dettagli viaggio hai una sorta di reminder di quello che hai acquistato ecco qui quello che io ho acquistato ho una tariffa basic con una sola borsa piccola io non ho acquistato una tariffa completa anzi in realtà poi questo viaggio me lo pagano nel senso che vado per lavoro però ho preso una tariffa basic però poi se apro sotto ho aggiunto l'imbarco prioritario ho aggiunto il doppio bagaglio a mano con quindi posso portare anche un 55 40 20 da 10 chili e purtroppo ho anche un bagaglio da stiva perché vado a bari per poi partire per il vietnam quindi mi serve un bagaglio da stiva e ho anche acquistato un posto a sedere proprio per poter fare un check in nei 60 giorni prima e non doverlo per forza fare nelle ultime 24 ore l'ho fatto anche per voi perché volevo registrare il video ve lo dico comunque mi è anche comodo comprare perché così ho scelto uno dei posti in fondo scendo più veloce degli altri perché si scende a bari sia davanti che dietro perché scende in pista e magari arrivo prima in aeroporto rispetto agli altri puoi visualizzare la ricevuta in questo caso non lo facciamo ma qui c'è tutto quello che hai comprato ti può servire per andare a capire se vuoi aggiungere o no altre cose ora noi torniamo indietro perché non voglio aggiungere niente e andiamo a fare il check in online come abbiamo visto prima io lo posso fare perché ho preso e la scelta del posto a sedere quindi lo posso fare da 60 giorni prima nel caso in cui tu non lo possa fare te l'ho già detto lo potrai fare gratuitamente da 24 ore prima oppure qui ci sarà scritto check in fai check in lo potrai fare ma dovrai comprare i posti a sedere quindi dovrai pagare la scelta del posto a sedere e puoi procedere con il check in lui ti dirà fai il check in perché lo puoi fare anche 35 giorni 40 giorni 22 giorni prima non è vietato se a monte in fase di prenotazione non l'hai acquistato però è chiaro che ti invoglierà in questa pagina a farlo e se tu ci entri ti dirà scegli i posti a sedere paga e poi fai il check in quindi a te la scelta e mi raccomando io questo posto a sedere ce l'ho quindi clicco sul tasto check in c'è una pagina con delle info diciamo burocratiche e u261 e devi per forza confermarle in questo caso c'è solo il mio nome perché in questo volo ci sono da solo ma qui potresti avere una lista di passeggeri potresti aggiungere o togliere le spunte a chi vuoi fare il check in perché ad esempio vuoi fare il check in per te stesso non lo vuoi non lo vuoi fare per un tuo amico che lo farà lui entrando nella prenotazione questo dipende da voi quindi non è obbligatorio fare il check in per tutti quelli che sono all'interno di questa prenotazione sia ben chiaro quindi a questo punto io ci sono da solo quindi sono per forza spuntato ma se ci fossero più voci si potrebbe scegliere se spuntare o togliere la spunta in questo caso devo per forza confermare per poter andare avanti e poi clicco su continua vuole e prova a vendermi un'assicurazione di viaggio assicurazione viaggio fornita da x cover io ti sconsiglio vivamente come faccio da anni di comprare assicurazioni di viaggio attraverso le compagnie aeree perché hanno delle coperture che costano poco ma hanno veramente poca copertura in generale e dei massimali che non sono consoni compra l'assicurazione a parte e noi come è in mondo io la mia assicurazione in mondo siamo riusciti ad avere come community il 10 per cento di sconto tutto l'anno tutto l'anno ti consiglio in mondo perché ce l'ho io ma puoi comprare europa assistance puoi comprare allianz puoi comprare quelle che vuoi l'importante è che ti leggi bene le condizioni e queste condizioni non sono assolutamente paragonabili a quelle che potresti avere con una tua assicurazione quindi evita di prendere un'assicurazione con il volo quindi io clicco su no grazie è obbligatorio cliccare su o proteggi tutti i passeggeri o no grazie io dico no grazie e a questo punto siamo alla scelta del documento cioè dell'inserimento del documento io dico scelta perché perché semplicemente ho già registrato due documenti ho un passaporto e una carta d'identità che tra parentesi non esiste più quindi devo aggiungere la nuova carta d'identità in questo caso posso scegliere tra il passaporto e la carta d'identità ma in realtà se non l'hai ancora inserito puoi cliccare su usa un documento diverso se non ne hai mai inseriti ti farà inserire i dati di un documento ti chiederà se vuoi salvarli per il futuro o meno state è la scelta per me è molto comodo salvarlo però detto questo io a questo punto scelgo un documento e poi vado avanti cliccando sul tasto continua la pagina successiva dopo l'inserimento dei documenti del documento è quello del pubblicità se vuoi acquistare nuovi bagagli allora qui sopra hai bagagli acquistati puoi aprirlo e vedi che cosa hai acquistato che cosa hai compreso io praticamente ho tutto quindi non mi serve più niente però ad esempio puoi acquistare un altro bagaglio da stiva massimo 10 chili al costo di quasi 30 euro costano un botto i bagagli da stiva soprattutto se presi dopo la prenotazione costano già tanto durante ma dopo ancora di più e quindi evita e un bagaglio da 20 chili classico a costo di quasi 50 euro evita 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 io qui non prendo assolutamente nulla e clicco sul tasto continua chiaramente se scegli qui dove c'è scritto totale zero euro sotto ci verrà la cifra che poi alla fine andrai a pagare per fare prima di fare il check in dovrai pagare questa cifra ma sarà tutto tutto molto semplice tutto molto logico e ti faranno pagare poi ti faranno ti rilasceranno la carta d'imbarco in questo caso io non aggiungo nulla clicco sul tasto continua di nuovo di nuovo pubblicità mi vuole vendere cose stiamo parlando di low cost è sempre sempre così di nuovo i bagagli vuoi fast track nel mio caso parto da pisa non ho bisogno del fast track ma se parti da aeroporti in periodi dell'anno molto gettonati fai una valutazione per il fast track perché ti permette di fare un salto di tutta la fila per andare controlli dipende da te però noi lo consigliamo soprattutto in periodi dell'anno di altissima stagione come può essere agosto come può essere capodanno e in giorni dove parte il pianeta intero quindi fai una valutazione per quanto mi riguarda in questo caso non mi serve assolutamente a nulla l'assicurazione ti ho detto che non la voglio eventuale attrezzatura speciale come culle come sci come snowboard come qualsiasi cosa che sia attrezzatura speciale dovrai cliccare lì io non voglio prendere nulla quindi continuo prova a dire col tasto continua ed eccoci qui il check in è stato fatto questa è la pagina finale mi dice appunto check in effettuato per cristiano guidetti nel volo da pisa a bari domenica 27 ottobre adesso vedremo anche la carta d'imbarco però come vedi da questa schermata mi dice il tuo posto attuale è il corridoio vuoi cambiarlo modifica ok a pagamento loro provano sempre a farti cambiare io l'ho comprato il posto l'ho voluto apposto a corridoio chiaramente se l'ho comprato non non mi interessa cambiarlo ma è chiaro che se tu sei una di quelle persone che non ha acquistato il posto a sedere e hai fatto il check in nelle 24 ore precedenti magari ti hanno assegnato un posto che non ti andava bene che potrebbe essere un postaccio e allora a questo punto lo potresti modificare da qui pagando è chiaro che questa voce è molto più interessante per quanto riguarda ryanair per chi ha fatto il check in all'ultimo momento e chi ha fatto il check in appunto gratuitamente andiamo ad aprire la carta d'imbarco e vediamo come è fatta eccola qui la carta d'imbarco è molto semplice c'è un qr code c'è tutti i riferimenti puoi aggiungerla sia al wallet di google se hai una telefono android che a quello di apple se hai un telefono apple al samsung wallet se io ho un telefono samsung appunto mi chiede di aggiungerla al samsung wallet ci sono un po tutti i dati il fatto che io ho acquistato la priorità che ho il bagaglio a mano il bagaglio piccolo come vedi quella banda rossa se no non ce l'hai il posto dove sono a sedere il bagaglio da 20 kg imbarcato come vedete lì sotto alla fine e tutti gli altri dati eccetera eccetera con questo qr code che io copro per questione di privacy ma con questo qr code potete chiaramente aprire il cancelletto per andare ai controlli potete darlo a quando andate per il a consegnare il bagaglio da mandare in stiva se avete bagagli da mandare in stiva e lo utilizzerete tranquillamente per salire sull'aereo nel momento in cui siete al gate quello che vi consiglio io e che hanno paura in tanti magari non c'è connessione eccetera eccetera quando avete fatto il check in online di qui fate uno screenshot fate un salvataggio dell'immagine di questa immagine basta che fate uno screenshot ogni telefono vi permette di farlo in modi diversi ma fate uno screenshot lo avete come immagine salvata all'interno della vostra galleria fotografica e il problema non sussiste ho capito ci potrebbe essere il problema che che magari il telefono abbia dei problemi non si accenda non funzioni eccetera eccetera ma allora c'è il problema anche del cartaceo nel caso in cui lo perdiate o si bagni o si strappi non sapete dove avete messo tante cose il se e il ma sono in tanti posti quindi a questo punto il mio consiglio è fate uno screenshot e vedrete che non avete assolutamente nessun tipo di problema c'era ancora il discorso del pdf da fare che in parte ho già fatto se fate la procedura di check in online da computer arrivate a un punto in cui avete appunto da scaricare la vostra carta d'imbarco in pdf il codice a barre che non è un qr code che vedete sul pdf stampato in tantissimi aeroporti allora per normativa di ryanair quello non è accettato per come carta d'imbarco elettronica cioè non è che potete utilizzare il pdf che scaricate da computer con il codice a barre per passare il cancelletto per salire sul volo questo per secondo le regole comprese all'interno del contratto di ryanair questo non vuol dire che ovunque facciano così perché l'ho visto fare purtroppo come tutte le cose non seguono tutti le stesse regole per cui ho visto far salire sugli aerei a volte facendo vedere da telefono il pdf con il non è un qr code con il codice a barre la versione pdf diciamo della carta d'imbarco quello che vi consiglio io è di non rischiare non rischiate quindi anche se fate il check in online da computer poi entrate attraverso l'app nella vostra prenotazione e avrete all'interno il la carta d'imbarco con la versione qr code che è quella accettata dal 100 per cento degli aeroporti ripeto che è quella accettata dal 100 per cento degli aeroporti per cui è quella sicura al 100 per cento quella in pdf è sicura se la stampate quindi attenzione dovete comunque stamparla ormai tantissime persone non hanno più le stampanti a casa non perdete tempo e soldi ad andare a stampare sto foglio perché è più diciamo crea più problemi il cartaccio che la versione online ormai quindi il mio consiglio poi fate come volete io parlo per per esperienza personale dopo tanti tanti voli il mio consiglio è quello di utilizzare il qr code perché viene accettato più spesso e ovunque per quanto riguarda il cartaceo pdf poi volete magari farlo vedere da telefono come tanti fanno e vi creano dei problemi e dopo avete dei problemi in aeroporto quindi se volete averli tutti e due è una sicurezza in più ma io non ormai da anni non ho più la stampa cartacea di ryanair e non mi è mai successo nulla quindi questo è il mio giudizio personale il mio consiglio spassionato e inoltre per quel poco che conti lo so stiamo prendendo un volo e quindi inquineremo ma se non stampiamo forse inquiniamo quel millesimo in meno che voi direte niente però se tutti non stampano forse non è più tanto niente se questo video ti ha aiutato a vedere come funziona la procedura di cecchino online di ryanair da applicazione allora un pollicione verso l'alto me lo merito così cresce il canale e fai parte anche tu della famiglia di viaggio vero ma ne fai ancora più parte se ti iscrivi perché è gratuito se non sei ancora iscritto è iscritta il pulsante qui sotto ed è completamente gratuita l'iscrizione e qui a fianco stanno passando comunque altri video che riguardano appunto le procedure con ryanair o altre altre utilità sempre con ryanair